Ho commesso un errore a mostrare quel ciondolo e il mio intervento era una richiesta dell'utilizzo della tecnologia più all'avanguardia che ci possa aiutare. Rettifiche e scuse a mezzo stampa non si contano. Così Giuseppe Tiani corre ai ripari dopo le dichiarazioni che avevano scatenato una vera e propria polemica. Un ciondolo anti-covid, quello che il segretario nazionale del sindacato di polizia SAP aveva presentato il 6 novembre alla Camera durante un'audizione presso la Commissione Affari Costituzionali su Sicurezza e Immigrazione. Un micropurificatore d'aria che costa 50 euro ha detto una tecnologia israeliana per un metro cubo attorno alla persona che lo indossa che inibisce qualsiasi virus abbia segno positivo andrebbe distribuita, aveva proposto, alle forze di polizia e a tutti i sanitari impegnati in questa emergenza. Ma a smentire l'efficacia anti-covid dell'amuleto era stata la stessa azienda produttrice, la man del capital SRL dei fratelli FIEG, due ragazzi di Isernia, che hanno solo una piccola base in Israele, ascoltati da giornalettismo. Una proposta inopportuna che ha fatto gridare allo scandalo non soltanto le frange politiche, ma anche gli esperti del settore, ancor più che Giuseppe Tiani e il presidente di Nova Puglia, l'agenzia regionale che si occupa della gestione dei grandi appalti e dell'innovazione tecnologica della nostra regione, nominato direttamente dal governatore Emiliano. La questione oggi è diventata un caso mediatico di caratura nazionale, ma a svelarla era stata una giornalista tarantina, Anna Rita Di Giorgio, redattrice del Foglio, ricondivisa con il suo tweet da personaggi del calibro, solo per fare due esempi, Burioni e Pausini.